Ci siamo ragazzi, trailer del capitolo 4 Iscrivetevi, like, codice Lelex, vediamo un po' Vediamo un po' Ok Ah è molto musicale Ovviamente le moto, vabbè Uh, parte proprio così Bella, sembra interessante la guida delle moto Ci sono ancora gli acchiappamucchi, le acrobazie Il pit stop? È un emote Questo? Il drone? Ma ci sono i boteri, che cosa c'è? Ci stanno le glassi? Il drone, quello faceva lo scudo Ok, si può sparare solo a modo, fico Oh Bello, Doom Non ho capito cosa ha fatto con quella roba lì però Questo raga sembra molto Borgo Allegro Però in realtà no, è tipo una città di The Witcher, immagino È il martello, vedete, che è veramente un'arma, ve l'avevo detto Bello il castellone Sono le statue di Genova, quindi questa Mamma, che figo il posto Poi l'illuminazione è di Cristo Ecco qua Ecco qua Peggio dell'Akamehameha A posto Boom Una botta e via Attenzione Ah, vabbè Che gazzata Con Bananita nuda Va bene, va bene Non c'era una bella tipa C'era una bananita nuda Benvenuti nella crew battaglia Così posso riscattare tutto quello che voglio Fantastico Adoro Riscatta, vai Vantaggi per i membri Sono un membro, ragazzi Pensavo di aver Ah, beh L'adesione ha i suoi vantaggi Avete visto? Allora Ricordatevi, eh, raga Prima di fare qualsiasi cosa Negozi oggetti Vediamo se me l'ha tolto a me il codice No, me l'ha tenuto L'Elex Uh, è cambiato tutta la colorazione Tristi È cambiato tutto È cambiato tutto Ed è estremamente triste È nuova? È nuova questa? Yeah Il pacchetto principiante ancora non c'è Ok Pass battaglia Vediamolo insieme Forza amici Ricompense Allora Eh, realtà zero Come faccio a vederla Che è cambiato tipo ogni tasto? Visualizza con triangolo Quindi siamo tornati Allora È interessante Perché qui hanno Hanno sperimentato un ibrido Diciamo Stellette Con sempre i premi A determinato costo Ma Come funziona ora Andando avanti Vedete Adesso li vediamo tutte Ma Ci sono Diciamo Delle sottocategorie Dei sottoblocchi Entro i quali Non esci Se non hai un determinato livello A prescindere Dagli acquisti Che fai Con le cose Quindi non è più Compra x oggetti Ma raggiungi un certo livello In questo modo Credo che loro Scongiurino il problema Della gente Che solitamente Prendeva le cose piccoline Tipo Le scie O le cose Che costavano meno E ti fanno Un po' andare Un po' più Come ti pare Almeno con gli acquisti Tranne questa pagina Che è completamente libera In quanto è la prima Secondo me ci può stare Dobbiamo Va testato Dobbiamo giocare un po' Comunque Schermata Pesissima Scelto dal destino Destinato alla grandezza Alla realtà zero Quindi al massimo Al femminile Me la dovresti coniugare Ma ok Lusso lunare Credo che Quali sono le ricompense Gratuiti Non me le segna più Quindi non potrò mai più Saperlo Mi auguro che voi Lo scopriate E visualizza la ricompensa Eccola qua Sfoggia il tuo stile Va bene Bellina Poi Bello Bagliore lunare Molto bello questo Questo è figo Questo ci sta Poi abbiamo Va bene Va bene Ok Ok Selene Poi tra l'altro È molto bello Che mantiene lo sfondo Che si sblocca all'inizio Quindi dà anche In questa varietà Un pochino Migliore Al tutto Lo trovo più piacevole Bellissimo Questo deltaplano È molto bello Liberati nella notte Che figo Questo zaino Ci ricorda anche Un po' Di cose vecchie Se ci pensate Un pochino Il mentore telepatico Di aura lunare Aura Sto scherzando Selene è aura lunare Il suo destino Risiede tra le stelle Ma questa è aura lunare Ovviamente Dovrai avere la versione Prima per sbloccarla E poi da qui in poi È tutto così Quindi livello 11 Si sale Di tot in tot 5 8 Più 3 Quindi qua invece Diventa sempre più 3 Più 3 Va bene E poi sblocchi come ti pare Per cui hai Massai Acrobazia in aria Fuoco di Massai La musica che non posso sentire Ma immaginiamo sia bellissima Questo è un piccone Ebbene sì E poi c'è Massai Chiunque può fare l'impossibile Massai che Lo credo anch'io E poi c'è Tutte le cose Borsa da grind Fico Da love pipe Al campo di battaglia Esprimi di libertà Fico Oddio Beh non male Esagerato Mamma mia È un po' too much Stai motta Ok Massai passo del vento Quindi vanno sempre di 30 Le 17 20 Sì 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 Però tu con 3 livelli Ti fai 15 stellette A regola no E qui sono tipo 3 2 5 4 6 Quindi 6 4 10 15 È di più È interessante Molto molto interessante Ok Ok Quindi poi vediamo Ok Doom Slayer Questo è tutto ovviamente Roba riferita a Doom La Oh Cacodemone Se ti avvicini troppo Finisci male Ti credo È un cacodemone Questo è tanto In effetti viene parente a Cioppi Ma è tanto brutto Per una Per Fortnite Doom Slayer Per l'unico Settemone Sei tu Giorno 0 Bella sta schermata Da realtà frammentata Nasce una nuova era Questa è lore Comunque E per distruggere Ok Questa qui sembra che tipo Ti fa andare in prima persona È una cosa molto strana Armatura Astro Bot Dusty Ok Un'altra schermata Colpo secco Double header Randellatori Disegnati Da chi non lo sappiamo Infield Fly Dusty Lei stessa Feroce campionessa Di palla brutale Che sport è? Nessuno lo sa Di preciso Ma ha le mani enormi Come Thorin Cioè vi prego Di apprezzare Quanto è grossa Quella mano Ragazzi Guardate come si tocca I pantaloni Con una mano Gigante Gli parte Da sopra L'ombelico Gli arriva Fino alle cosce Ha una mano enorme È spaventosa Ma perché C'hai le mani Così grosse Non è normale Che c'hai le mani Così Dai Dusty Dusty cimiteriale Questa è una Ma questi sono stili Però Palesemente Quindi Ancora sti deltaplani Dobbiamo vedere Purtroppo si Ho giusto 15 scia Che assomigliano a questa Ok ok In realtà Diventa sempre più bellina Però ha le mani Veramente troppo grosse Nezumi La skin anime Mamma mia Ragazzi Mamma mia Veramente Puzzle del millennio Qui Ok Risveglio Cos'è che c'è scritto L'antico simbolo Del conclave Sussurrato C'è l'orra Vascello del conclave Sussurrato A volte Per vedere Devi prima liberare Il passaggio Padroneggia il tuo potere Prima che tu Che padroneggi te Ma qui Il purello Neanche ci vede È tutto coperto Ah Come va Ok Non lo sappiamo E qui scatena La potenza Devastante Ok Oh È bella Questa Interessantissima Questa qua Ok Lui quindi è così Chissà Come Si agita Quando fa una kill Forse Boh Ok Elsie Bray È veramente Un bubble tea No scusate Mi ho sbagliato Tutti i tasti Parte Dell'uniforme Ufficiale Di Bobom Ok Lascia Bella Cosa Secondo me Boh A me lei piaceva più Nei survey Che nella realtà Avventuriera Ammazza vampiri Specialista del boba Con due o diventa Molto pericolosa E Elsie Bobarista Ok Oh mio Dio Ragà Questa è un po' Pericolosa Jesus Perché è da simpatica Però Mamma mia Mamma mia Andiamo avanti Dai Bob il boba Dorso di colettivo Boba Velocità Terminale Qui è lei Sottoacidi Ok Ho sempre preferito La spada Alla corona Alla temporale Tiè Guarda Non ha La La voce Vero Se noi impazziamo Qui Non credo No Guardiano del giuramento Con Con cosa Guardiano del giuramento Per Esprimi Di libertà L'emblema Dei giurati La copia Se n'è andata Per governare Un impero In realtà Quello L'abbiamo visto In inglese E dovrebbe essere La copia Lasciata Qui Per governare Un impero E' giovanissimo Qua Veramente Giovane Mamma Che bella Sta schermata Innalza Gli standard E combatti Fino all'ultimo Così abbiamo Giurato Discesa Del comandante Ditemi Che è per tutti E' uguale A quello Della regina Ci sarà un motivo Ok Eh Questa Se avesse avuto Un nome Sarebbe stato Fondamentale Lama Eterna Ok Chi la impugna Ha diritto Al trono Chiamata Alle armi Bam Mamma Mamma Mia Wow E fine Quindi livello 100 Finalmente Una skin Vera Geno Giovane GG Perfetto Queste sono Le ricompense Bonus Che le puoi Già prendere Come funziona Riscatta Ah no 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 Semplicemente Le vediamo già Ok Sono le classiche E questi sono I vari stili Sempre aggiuntivi Che troviamo poi Hanno semplicemente Optato per una Visualizzazione Orizzontale Non verticale Ok Consegne di metà Stagione In arrivo tra 30 giorni Quindi ci sono Degli stili Di metà Ok Carino Non disdegno Non disdegno la cosa E poi abbiamo Geralt Che è ovviamente L'ultima skin Con Baby Yaga Dietro Armi da Witcher Memoria Muscolare Segno Igni Spada Acciaio Da Witcher E Geralt Di Rivia Fatto anche bene Sinceramente Poteva andare Molto peggio Presti in arrivo Non ci dice neanche La data qua Criuvista Boh A posto Direi che Ho dato uno sguardo A tutto E quindi Questa è stata La nostra reazione Una reazione Incredibilmente Sorpresa Nel vedere che abbiamo Una skin Importante A livello 100 Pesissimo Pesissimo Mi raccomando Raga Codice L'Elex Che brutta Sta schermata Non ti fa venire Voglia di supportare Più E' fatta a posto E' un complotto E' un complotto